Benvenuti in questo nuovo vlog, io sono 960Kill Volevo fare questo piccolo video per fare a tutti gli auguri di buon natale e felice anno nuovo e mostrare che cosa mi hanno regalato Una bella sedia da gaming e una bella tastiera da gaming con tanto di mouse E' stato un po' arduo far riconoscere il tutto al computer ma alla fine tutto si è risolto per il meglio Spero che anche voi abbiate avuto altri bei regali e che state passando delle belle feste Qui da 960Kill è tutto, alla prossima Grazie a tutti!